Davide Gallimberti è un sindaco coi fiocchi, una persona seria, affidabile, concreta, un amministratore attento, rigoroso, onesto. Io penso che tutte queste caratteristiche quando le trovi non le devi mica perdere. È un sindaco che tutte le città vorrebbero perché c'è anche questa solidità, anche questo tratto così sereno nell'approccio e così capace di relazione. Abbiamo costruito una bella alleanza tra sindaci lombardi, dobbiamo andare avanti perché abbiamo tante battaglie da fare sulla mobilità pubblica, sui temi della rigenerazione urbana, sui temi ambientali, sui temi sanitari. Abbiamo tante sfide e se stiamo insieme le vinciamo.